Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000 un appuntamento come di consueto che amiamo dedicare anche al mondo del volontariato locale quest'oggi assieme a noi abbiamo l'Associazione del Circolo Culturale dei Vigili del Fuoco di Belluno che saluto e ringrazio nella persona del Presidente Gianfranco Sommavilla ben trovato Presidente grazie a voi e dell'invito una realtà che riproporrà dopo un periodo di stop a causa dell'emergenza pandemica che è una manifestazione che è una vera e propria tradizione per il vostro circolo e per la città di Belluno mi riferisco al Baby Bazaar una lunga tradizione infatti Presidente una lunga tradizione che quest'anno raggiunge il 23esimo anno di partecipazione diciamo così e quindi siamo felici di aver intanto raggiunto questo obiettivo e siamo felici anche di poterla rifare perché dopo due anni di pandemia ci mancava e mancava soprattutto i bambini perché abbiamo avuto richieste eccetera quindi benvenga questa 23esima edizione facciamo subito un po' di ordine perché come dicevamo è una manifestazione ben conosciuta sul territorio ma magari qualche nostro telespettatore può non conoscerla quindi innanzitutto che cos'è Presidente quando si svolgerà e dove? si svolgerà nella piazza dei martiri il 25 di settembre di quest'anno è una manifestazione esclusivamente fatta da bambini per i bambini quindi i bambini devono gestire un mercatino quindi loro arriveranno in piazza si metteranno sulla piazza sul posto che verrà loro assegnato e venderanno o scambieranno poi lo decidono i bambini con gli altri eccetera i loro giochi, libri, vestiario quello che è tutto inerente ai bambini è una forma anche per far conoscere ai bambini il commercio e soprattutto il guadagno dei soldi che non è proprio così facile specialmente in questi tempi quindi una forma per imparare comunque giocando perché per loro è un'esperienza cattivante assolutamente sì, deve essere un gioco più che un lavoro deve essere un gioco loro si devono divertire in effetti noi all'interno della manifestazione vedremo di organizzare anche due o tre piccole cose per farli giocare ci dispiace quest'anno che non possiamo avere la pompieropoli dei vigili del fuoco questo è un grosso handicap per noi e per la manifestazione ma per questioni un po' burocratiche non ha potuto essere presente e questo ci dispiace però abbiamo cercato di organizzare qualcos'altro e sempre per le informazioni di carattere logistico bisogna iscriversi come si può fare? sì, ci sono dei vari punti che si possono andare a prendere il modulo per poter fare l'iscrizione altrimenti sul nostro sito www.vigilfuoco.it sotto al circolo ricreativo si apre la finestra lì c'è tutto basta cliccarci sopra si scarica il modulo se lo compila e poi al momento della presentazione alla mattina chi lo scarica ovviamente attraverso il sito può fare tutto durante la mattina della presentazione gli altri invece vanno nei vari punti e li fanno tutto immediatamente ecco, mentre noi stiamo parlando Presidente, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia stiamo vedendo anche alcune immagini delle precedenti edizioni di questa manifestazione che come ricordava appunto ha una storia più che ventennale vediamo proprio Piazza dei Martiri coloratissima in vasa di questi bambini con i sorrisi che arrivano fino alle orecchie ecco ci viene proprio da dire assolutamente sì i bambini si divertono e noi anche perché veder loro così gioiosi in quella manifestazione è una soddisfazione incredibile poi oltretutto chi realizzerà il banchetto più colorato più bello più creativo ci sarà una giuria che passa attraverso i banchetti e poi noi daremo un premio a quello che avrà vinto in base a quello che avrà deciso la giuria allora la domanda sorge anche spontanea come mai comunque un circolo dei vigili del fuoco ha deciso di realizzare di far proprio nascere una manifestazione comunque di questo tipo la manifestazione è nata tantissimi anni fa ripeto questo è il ventitraesimo anno quindi risaliamo a parecchi anni era nata con degli amici delle vie del borgo di via Garibaldi quindi è partita da là poi c'è stata un'evoluzione chi faceva parte di quell'organizzazione aveva chiesto la collaborazione con il circolo dei vigili del fuoco alla fine qualcuno di questi è andato in pensione non ha più voluto seguire eccetera siamo subentrati come circolo ricreativo quindi siamo circa 19 anni che il circolo è subentrato e da lì abbiamo iniziato a continuare questa tradizione tradizione bellissima che quindi ci dà tantissime soddisfazioni e poi segue non solo anche per i bambini durante quella manifestazione ma a noi il raccolto che poi faremo delle iscrizioni lo devolveremo ad altre o associazioni o persone fisiche che ne hanno realmente bisogno ecco infatti ribadiamo questa è un po' la vostra mission comunque è fare la solidarietà assolutamente sì il circolo una delle missioni che ha e la fondamentale è quella di raccogliere per poi dare questo è quello che noi facciamo specialmente sul territorio quindi più persone più bambini ci iscrivono più possibilità di poter aiutare qualcun altro abbiamo se dobbiamo fare una fotografia immaginaria adesso del vostro circolo come lo possiamo rappresentare anche dal punto di vista numerico dal punto di vista dei suoi associati ecco giusto per darne una rappresentazione beh gli associati sono principalmente vigili del fuoco quindi vigili del fuoco in servizio sono volontari e in quescenza questo è diciamo il grosso dei vigili che fanno parte del circolo rientrano là dentro ma non solo cioè ci sono anche persone fisiche normali persone che non c'entrano niente con i vigili del fuoco che hanno deciso di darci una mano quindi di essere iscritte al circolo ricreativo attualmente siamo circa 200 e qualcosa quindi un bel numero siamo soddisfatti di questo e soprattutto ci danno una grossa mano quindi per noi è fondamentale avere queste persone che ci aiutano anche solo con l'iscrizione quali sono i valori che guidano il vostro operato il vostro agire che comunque sono i valori anche della stessa organizzazione comunque che voi rappresentate beh come abbiamo già detto il primo è quello di fare della beneficenza il secondo poi è l'amicizia che regna tra noi l'incontro che regna tra noi la solidarietà sempre poi cerchiamo di fare delle aggregazioni con altri circoli nei vari in Italia eccetera e non solo anche all'estero noi abbiamo fatto diversi incontri soprattutto Croazia, Slovenia siamo andati anche in America quindi insomma cerchiamo di socializzare un po' con tutti quanti di creare quindi una rete una rete, esatto parlava appunto di beneficenza voi avete fatto vabbè adesso abbiamo citato questa manifestazione che ricordiamo ritorna in Piazza dei Martiri il prossimo 25 settembre ma Presidente nel tempo non solo questa è stata un'azione che voi avete intrapreso avete fatto varie altre donazioni per esempio assolutamente sì noi donazioni siamo partiti diciamo dall'inizio ecco la mission è sempre stata quella quindi dall'inizio quando siamo nati questa era l'idea anche se il circolo irrigativo non era nato proprio per tutto questo come manifestazioni era nato più che altro per dare la possibilità ai vigili del fuoco di potersi muovere sul territorio senza chiedere al Ministero dell'Interno perché purtroppo il Ministero dell'Interno soldi sono quelli che sono e quindi diceva sempre di no quindi l'idea è creato il circolo per potersi muovere da lì poi abbiamo iniziato a fare queste raccolte e con le raccolte dei fondi che abbiamo fatto abbiamo fatto diverse donazioni mi viene in mente la pediatria di Belluno per dirne una le case di riposo asili in tutta la provincia da nord a sud con qualsiasi materiale che l'asilo stesso ci ha chiesto chi ci chiedeva la carta chi ci chiedeva ma dico la carta per dire la cosa più semplice sì materiale didattico diciamo didattico eccetera eccetera e quindi abbiamo cercato di andare a coprire un po' tutti gli spazi e soprattutto le famiglie le famiglie tantissime famiglie che hanno bisogno soprattutto famiglie che hanno anche bambini con disabilità e quindi abbiamo cercato di aiutarli ecco l'emergenza pandemica in qualche modo sicuramente ha influenzato anche le vostre iniziative le vostre attività è comunque rimasto saldo lo spirito del gruppo come in qualche modo ha influito questa situazione diciamo che la pandemia ha creato qualche piccolo problemino nel senso che diventa un po' più difficile cercare di coinvolgere tutti cioè quando si è abituati a lavorare continuamente facendo determinate cose non ci sono problemi quindi si va lì quando c'è un break riprendere questo tipo di situazione non è così facile lo stiamo facendo piano piano tutti i soci tutti quanti ci riescono a capire e quindi ci aiutano non è proprio così facile comunque la pandemia ha creato questo chiamiamolo stop di aiuti però insomma ci stiamo lavorando ci si lavora esatto però questo comunque è vero è una segnalazione che il mondo del volontariato ha più riprese su più fronti insomma mette in luce non va sottovalutato i giovani partecipano alle vostre attività intendo come componenti del vostro circolo ci sono vigili del fuoco anche magari all'inizio che decidono comunque di entrare a far parte di questa che è un po' un'altra famiglia allargata se vogliamo sì ma con fatica perché non il giovane probabilmente non ha vissuto o non vive ancora determinate situazioni che possiamo dire abbiamo vissuto noi e quindi il volontariato che visto da me che ormai ho una certa età è stato fatto perché c'era il bisogno il giovane probabilmente non sente questo bisogno quindi lo devi andare a prendere gli devi spiegare guarda che si fa questo si aiuta a questo allora tanti riescono a capire vengono e ci danno la mano qualcun altro ovviamente dice no non me la sento però le porte sono aperte sono aperte assolutamente assolutamente l'invito quindi c'è e poi ormai in chiusura ci stiamo avvicinando al termine presidente però c'è un appuntamento c'è stato un evento in passato che insomma per voi rimane indelebile un ricordo davvero importante che vi ha visto sfilare una particolare manifestazione alcuni anni fa noi alcuni anni fa devo dirle siamo stati orgogliosissimi di essere il primo comando organizzato dal cerco ma il primo comando dei vigili del fuoco di Belluno che è andato a New York a sfilare sulla Quinta Avenue durante il Columbus Day quindi è stata una cosa meravigliosa poi lo abbiamo ripetuto nel 2011 dopo dieci anni esatti perché siamo andati via nel 2002 subito dopo il crollo delle Torri Gemelle e nel 2011 siccome ci avevano detto vi vogliamo rivedere siamo ritornati è stata un'accoglienza incredibile una soddisfazione bellissima puoi sfilare sulla Quinta Avenue e ancora la Pelle Doca ecco giusto per rendere l'idea comunque delle manifestazioni delle attività che un circolo ricreativo come il vostro insomma riesce a creare le situazioni insomma di partecipazione quindi ancora la Pelle Doca c'è e la voglia di ritornare c'è ancora dovevamo ritornarci poi purtroppo la pandemia ha creato dei problemi adesso organizzare il tutto non è così facile perché anche là bisogna iscriversi accettano determinate partecipazioni non accettano tutti però avevano spazio eccetera anche se l'America ha spazi grandini ha tantissimi però insomma bisogna fare tutto questo quindi vedremo se riusciremo con gli anni prossimi a poter fare l'ultima per me probabilmente l'ultima ma di poter ritornare tra l'altro Presidente il 2022 per voi è stato comunque un anno significativo nella vostra storia insomma ha segnato una data importante beh sì il 22 sono 30 anni di circolazione siamo andati nel 92 quindi quest'anno ricade il trentennale quindi noi siamo strafelici vedremo di organizzare qualcosa prima della fine l'anno adesso non so dire che cosa come ne parlerò con i consiglieri vedremo cosa mettere in piedi vedremo di far qualcosa spero mi auguro adesso vediamo insomma ci stiamo lavorando ci state lavorando intanto si riparte comunque dal Baby Bazar dal Baby Bazar quindi appuntamento il 25 settembre in piazza dei Martiri a Belluno dalle 10 alle 18 per questo mercatino dei bambini dedicato alla solidarietà io ringrazio ancora Gianfranco Sumavilla presidente del circolo ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno grazie ancora Gianfranco grazie a voi e l'invito a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci a tutti quanti voi